e bella a tutti ragazzi eccoci qui oggi tornati in un nuovo video di minecraft oggi siamo qui ancora in un nuovo mondo e oggi appunto cominciamo a prendere della legna faccio prenderla che l'abbiamo presa cosa cos'è mai quello andiamo a vedere grazie? perché cosa grazie? 100 ma che vorrà significare? boh andiamo a vedere sopra quella montagna c'è scritto 100 forse perché oggi siamo arrivati a 100 iscritti 100 iscritti raga state scherzando eccoci qui raga veramente grazie siamo arrivati a un traguardo così grande che veramente io non ci sto credendo grazie raga per tutto quello che state facendo al mio canale veramente io vi ringrazio niente continuerò comunque a portarvi video continuare questo canale e non fermarmi mai quindi ci vediamo tra poco con altri video grazie per il 100 andiamo avanti così raga